io posso pure capire siamo salvi siamo tranquilli ok ma una partita così indegna se io devo vedere due partite altre così indegna me ne vado a mare me ne vado a mare che cosa devo guardare una partita del genere che mi prende un nervoso allora abbiamo fatto i primi 20 minuti buoni davvero buoni ma perché perché andavamo sull'onda dell'euforia che c'era sugli spalti va bene appena quella si è sciolta siamo c'è proprio noi ci siamo sciolti come neve al sole brutti indegni proprio indegni queste non sono partite che si fanno il campionato si onora si onora fino alla fine e genoa monza torino stanno onorando il campionato e stanno dimostrando che sono all'altezza della serie a noi ancora la mentalità non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo questo il terzo anno che faremo in serie a consecutivo e ancora quella mentalità non ce l'abbiamo cerchiamo di acquisire questa mentalità al genoa che gliene fregava col sassuolo era salvo e salvo da due mesi eppure ha ribaltato il risultato noi invece che abbiamo fatto palle perse azioni che che non si capiva da dove uscivano cross tutti brutti cioè non c'è stato un cross pericoloso un cross pericoloso non c'è stato un cross pericoloso proprio le azioni nascevano dal nulla non c'era niente di di calcolato non c'era non si vedevano schemi ma davvero davvero possiamo fare queste figure queste sono brutte figure che rimangono va bene a me a me o che io sono contento che ci siamo salvati ma ci dobbiamo giocare le partite ci dobbiamo giocare le partite voi non avete fatto niente vi siete salvati sì ok ci siamo salvati ma dovete onorare il campionato partite così indegne io non le posso vedere non possiamo vedere questo scempio oggi davvero è stata una cosa brutta brutta e alla fine è arrivata la batosta che ci meritiamo l'udinese sapete perché ha fatto così pochi gol perché è scarsa perché è scarsa l'udinese è una squadra scarsa e noi ci siamo fatti prendere a schiaffi dall'udinese ok l'udinese è scarsa ci fosse stata una fiorentina oggi qui o un torino noi ne avremmo prese cinque questo non è un atteggiamento giusto questo è un atteggiamento indegno proprio gallo sembrava un giocatore di promozione che giocava contro una squadra di serie a dorgo sembrava uno spaesato che si chiedeva che sto facendo qua e baschi rotto che si fa saltare così dal dall'avversario sul gol di testa e di lucca e mamma ma tutti tutti gendre e tutti tutti ramadani ramadani c'è ramadani di solito è quello che quando giochiamo male comunque lui il 6 lo prende ma oggi signori faccio fatica a mettere 4 4 faccio fatica a mettere 4 non si può giocare una partita così indegna ecco perché io poi porto rispetto per squadre come il genoa capito ecco perché